Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso ci sono code a tratti tra Monte San Savino e Incisa Reggello, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud e tra Calenzano e Barberino. Sulla Fibili fare attenzione per personale su strada segnalato nel tratto tra Firenze Viadotto dell'Indiano e Firenze Scandici in direzione Mare. Sull'accordo autostradale Siena-Firenze restringimento di carreggiata in corrispondenza dei viadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggi Bonzi e Tavarnelle. Sulla regionale Due Cassia per lavori restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291. Puoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.